Ionut Ambrose, una partita d'esordio che siete riusciti a vincere, ma il primo set forse un pochino più complicato del previsto. Sentivate la tensione dell'esordio? Tensione diciamo no, è stata la prima partita dell'Europeo, ci siamo posti un obiettivo per quello di sbagliare il meno possibile, cercare di mettere in difficoltà la squadra e piano piano cercheremo di migliorare il nostro gioco. Siamo man mano all'Europeo. Domani sera c'è la Francia, che partita vi aspettate? La Francia è una buonissima squadra, ci aspettiamo di fare una bella partita e di combattere su ogni pallone. Grazie, molto a tutti.